eccoci qua siamo in piazza genova anzi la ex piazza genova ora piazza matteotti ma nel cuore degli alessandrini sarà sempre piazza genova come piazza garibagli sarà piazza savona io non mi ricordo di averla mai mai vista illuminata no anch'io infatti siamo fermati apposta per vedere questo peccato che l'arco non abbia illuminazione adeguata che gli compete ma forse non è illuminato bene per non fare vedere tutti i rotti che ci sono le magagne per far vedere le magagne ok allora questo frisina si dobbiamo dargli la buonanotte a frisina buonanotte certo e la prima sarà sarà il giro dall'altra parte quando va a dormire se lo sente domani mattina mattina gli diamo buonanotte ok ciao frisina ciao ciao ciao